Terzo appuntamento con i notturni filosofici. In questa breve lezione tratteremo il dialogo platonico intitolato Il Critone. Il Critone è uno dei dialoghi giovanili di Platone e come in tutti i dialoghi giovanili il grande filosofo tenese ci parla di Socrate, ci presenta la figura di Socrate. Nell'Apologia, il suo capolavoro giovanile, Platone ci ha raccontato la difesa strenua di Socrate durante il processo che i sofisti democratici, Anito, Meleto e la città di Atene ha portato avanti contro appunto Socrate. Nel Critone invece la situazione è quella immediatamente successiva alla condanna morte. Il dialogo si svolge nella prigione in cui Socrate sta attendendo il momento della condanna. Socrate è da giorni in attesa della condanna morte perché tutte le Tene sono state momentaneamente sospese. In primavera la città di Atene, come altre città greche, era solita omaggiare Apollo e dunque le divinità del sole, dell'illuminazione, con un rito che consisteva nell'inviare doni presso Delo. Navi pubbliche partivano da Atene e si recavano appunto verso Delo. Durante questo viaggio tutte le pene capitali erano sospese, non era una proprio grazia ma un momento di onore e di rispetto nei confronti degli dèi. Le pene erano solito poi essere attuate e applicate al rientro delle navi da Delo. Le navi stanno per ritornare e dunque è quasi giunto il momento in cui Socrate deve essere giustiziato. A Socrate spetta una morte dolce, una morte con un veleno, la cicuta, riservato agli uomini onorabili, ai virtuosi, non ovviamente ai criminali comuni. In attesa della cicuta, in attesa dell'esecuzione capitale, gli allievi di Socrate, innamorati di Socrate, i fedeli amici di Socrate hanno preparato l'evasione del maestro e ad organizzare il tutto è stato Critone, uno degli allievi più legati a Socrate, uno degli allievi più anche anziani, l'allievo che era solito pagare i debiti che lasciava in giro per la città, il maestro il quale non insegnava appunto pagamento ma ricevendo le offerte dai suoi allievi e si faceva mantenere. E Critone è uno dei principali sponsor di Socrate. Ebbene, Critone ha preparato la fuga e si presenta visitando appunto Socrate in prigione e gli presenta il piano. Bisogna scappare, bisogna andare, le navi stanno rientrando. A quel punto Socrate interviene, dialogando con Critone gli dice perché dovrei scappare. Soltanto i corrotti scappano, soltanto i colpevoli scappano, soltanto le persone che hanno commesso un reato scappano. Io non ho commesso niente, ho servito la mia città fedelmente, ho insegnato ai giovani la filosofia, la ricerca della verità, della virtù. Ho insegnato ai giovani che la virtù è tutto e che il vizio è niente, il vizio lo va perseguito, il vizio è ciò che ti corrompe quotidianamente giorno dopo giorno e ti porta a vivere poi nell'ignoranza e l'ignoranza conduce al male. Critone lo invita a ragionare, dice è vero tu non hai commesso nulla ma la città ti ha condannato lo stesso, la città ha sbagliato. E a questo punto inizia quello che è il cuore pulsante del Critone, l'intervento di Socrate sulle leggi. Ma quello che mi ha condannato, ciò che mi ha condannato è il potere giuridico, legittimo, giusto di Atene. Io devo obbedire alle leggi, anche quando le leggi hanno sbagliato. Perché non osservando le leggi, quale esempio darei? Cosa insegnerei ai miei? Io ho insegnato ai miei allievi a rispettare la comunità, la città, la politica, sempre, di seguire la coscienza quando le leggi sbagliavano, ma comunque di rispettare le leggi. Dunque Socrate non è un rivoluzionario ribelle in questo, è un obiettivo di coscienza che dice di pagare eventualmente con la propria vita o con le proprie azioni, le scelte fatte perché bisogna seguire la coscienza prima ancora delle leggi, ma le leggi vanno comunque rispettate. Cosa insegnerei dunque ai miei allievi? Annullerei con una fuga tutti gli anni di insegnamento? Annullerei con una fuga tutto quanto ho insegnato per le strade di Atene? Cretone lo invita ancora a riflettere, a ripensarci, ha detto tu hai servito le leggi ma le leggi ora ti tradiscono, senti Cretone? Mi dirà Socrate se io scappassi e dovessi un giorno incontrare le leggi, il dialogo qui si fa magnifico, la costruzione lettera di Platone è veramente straordinaria, cioè Socrate immagina di incontrare le leggi, leggi vengono personificate, se io dovessi incontrare le leggi cosa gli dirà? Evra il coraggio di guardarle. Tu dici che non faccio del male a nessuno scappando Cretone, io invece faccio del male alle leggi perché non le rispetto e faccio del male agli altri cittadini perché con il mio esempio li indurrei a non rispettare a loro volta le leggi, se incontrassi le leggi avrei ancora la forza di guardarle negli occhi, avrei la forza di rispettarle, avrei la forza di trovare per esse quel degno rispetto che esse meritano, no, tradirei le leggi, tradirei lo spirito della comunità perché le leggi non sono al servizio di un singolo uomo, non sono al servizio di un politico, di un potente, di una fazione, le leggi sono ciò che permettono la vita associata, che permettono la vita della comunità e le leggi vanno rispettate dal cittadino che occupa le posizioni più elevate al cittadino più umile. Le leggi fanno la comunità, le leggi fanno la possibilità di vivere insieme, le leggi fanno la possibilità che la città sia ricca e fiorente, le leggi stabiliscono la fiducia tra i cittadini e rispettarle significa accrescere questa fiducia. A questo punto Cretone capisce che Socrate mai avrebbe accettato il piano di fuga, che mai Socrate sarebbe scappato e non gli resta che ascoltare ancora di più l'elogio che Socrate fa delle leggi, dicendo proprio che le leggi sono ciò che permettono la convivenza civile, le leggi sono il retroterra che permettono agli uomini di stare insieme, perché ci sia politica servono le leggi, Aristotele e poi Platone che sosterranno, Aristotele che è l'uomo e un animale politico ragionerà intorno alle le leggi e governi come punto di equilibrio per la vita associata, ma già in Socrate c'è questo grande rispetto nei confronti delle leggi come elemento determinante per poter vivere insieme. Ma soprattutto le leggi, ci dice Socrate, vanno rispettate da tutti, perché altrimenti il non rispettare delle leggi, il non rispetto delle leggi, crea una frammentazione, è una mancanza di fiducia che fa crollare la vita associata, la vita associata si fonda sulla cooperazione, sulla collaborazione, sul rispetto reciproco, dunque le leggi devono essere rispettate e devono essere fatte rispettate, perché altrimenti c'è un'implosione della comunità, ma pensate soltanto anche a quello che è la nostra vita oggi, nella comunità politica, in Europa, in modo particolare rimaniamo pure all'Italia, la carenza di fiducia che vi è negli italiani nei confronti della legge, nasce anche dal fatto che molte leggi non sono rispettate da coloro che le emanano, da coloro che le dovrebbero far rispettare, da coloro che le hanno scritte, da coloro che le hanno promulgate, la mancanza di fiducia di molti italiani nei confronti della legge nasce anche dal fatto che le persone che coprono le posizioni apicali della nostra società, i politici, gli imprenditori non rispettano le leggi, noi abbiamo imprenditori, in caso ultimo quelli di Marchionne come altri imprenditori prima delle automobili che barano sulle leggi ambientali, ma che rispetto ci può essere dell'ambiente anche da parte delle persone più semplici, comuni, quando coloro che hanno grande potere e grande responsabilità barano alla ricerca del profitto, barano alla ricerca della convenienza privata. Che possibilità c'è di vita insieme se coloro che hanno grande potere non rispettano le leggi? O pensate al problema delle carceri italiane, ma che difficoltà nell'avere fiducia della legge se i tutori della legge e dell'ordine spesso non si macchiano di crimini orrendi, qua è la tortura, i pestaggi, viene meno la convivenza civile in questo modo, perché il caso Cucchi non parla soltanto di Cucchi, ma parla di ogni cittadino che nel momento in cui è fermato da un poliziotto può avere paura di essere picchiato, di subire queste violenze, perché un uomo di legge più che la persona comune deve rispettare in maniera totale la legge, l'essenza della legge, i limiti della legge, la razza della legge, perché se non c'è rispetto della legge crolla appunto il patto di convivenza civile. E allora l'idea che coloro che sono addetti a tutelare le leggi, l'ordine, il rispetto della comunità si macchino di questi crimini, questa idea se si innesca, se si insidua e insedia nella cittadinanza comune rischia di far esplodere proprio la fiducia tra cittadino e uomo comune e uomo politico e tuttori della legge. Oppure il vigile urbano che in questi giorni si è vestito da SS di Monza, ma come può un cittadino comune accettare che coloro che dovrebbero far rispettare in questo caso le leggi del comune, nella vita del comune, sia un uomo che nel tempo libero si vesta da SS, ma le SS sono al di là della legge, sono la violenza, sono l'arbitro, le SS sono i più grandi crimini contro l'umanità, il meno una delle persone più spregevoli mai esistite con l'idea di estirpare l'impurità, la violenza, l'arbitro, il lager, lo sterminio, la tortura. Come può un uomo di un comune, di una repubblica, di una democrazia, di una città che occupa un posto così importante come responsabile dei vigili urbani, pensare di vestirsi da SS tramite Facebook, tramite un social network, dire basterebbe una divisione di queste per ripulire e sistemare la città, ma gli altri cittadini quando gireranno per strada e lo incontreranno, cosa dovrebbero pensare, cosa dovranno pensare? Servirebbe a questo punto una legge seria, un potere politico serio che rimuovesse immediatamente queste persone, non sarebbe una punizione rimuore, ma sarebbe un far fiorire la nostra democrazia, un farla rispettare, iniettare fiducia nei cittadini nei confronti alla democrazia per queste persone che non rispettano la legge dovendola tutelare, sono il cancro della democrazia, sono il cancro delle leggi, perché sono l'esempio lampante che il potere abusa delle leggi, che il potere non le rispetta, che il potere può fare a meno delle leggi e quando coloro che le dovrebbero tutelare si macchino di questo non fanno un danno alla singola persona, ma completamente alla collettività, alla comunità e in questo lezione di Socrate del Cretone non è mai fuori dal tempo, ma è sempre presente. L'uomo deve immaginare di dialogare con le leggi, di confrontarsi con le leggi e le leggi cosa dicono l'uomo? Le leggi dicono l'uomo rispetto, le leggi dicono l'uomo l'universalità della legge, l'universalità dei diritti, le leggi dicono l'uomo che di fronte alla legge vi deve essere quel senso di rispetto che Socrate considerava sacro, la legge è laicamente sacra, cioè degna di rispetto e va seguita. Nel caso di Socrate anche quando ha sbagliato, perché per Socrate una legge che ha sbagliato la si può comunque mettere in luce nell'errore rispettandola e insegnando agli allievi, agli altri cittadini che essa andrà cambiata ma all'interno di un patto, all'interno di una comunità, perché altrimenti il prezzo da pagare è quello del vizio, della corruzione, della frattura di un patto politico ed è proprio questo che vuole evitare Socrate. Socrate è fedele alla città di Atene, non fugge anche quando potrebbe farlo perché pensa che la responsabilità politica, collettiva delle persone pubbliche, di incarichi pubblici sia questo rispetto, questa responsabilità ancora più grande delle persone semplici e direi che la lezione di Socrate in Italia dovrebbe essere imparata, fatta proprio da molti, da molti politici che amministrando la Repubblica spesso si macchino di tangenti, di furti, creando così proprio una sfiducia di cittadini nei confronti della comunità politica.